un saluto alla gf motori che si serve da noi per quanto riguarda installazione vendita car tablet bmw mini composto dalla unità sottostante in più il car tablet adesso vedete tutte queste luci perché in ricerca gps che ovviamente qui non lo abbiamo questo è il menù android 10 4 gb di ram roma 64 gb apple carplay android auto qui stiamo su google poi abbiamo anche le impostazioni veicolo una volta collegato in macchina qui avremo le informazioni veicolo gestione audio e video tramite le usb e poi nella sezione car info abbiamo le informazioni veicolo adesso non essendo attaccato non vi apre altre impostazioni come posso inviare la tracciabilità ti ringrazio e buona giornata